Un attimo per le partenze perché andiamo adesso a un podio, al terzo posto la giuria del credazio, al terzo posto la pariglia dell'Omodeo, un applauso anche per la pariglia dell'Omodeo, adesso una bella lotta tra le due che sono rimaste, prendi con l'applauso per chi si è classificato al secondo posto, la giuria al secondo posto, ha visto la classifica di attesa, la pariglia dell'Omodeo, applauso, e quindi l'applauso ancora più caloroso per chi ha visto questa terza edizione di Pariglia, organizzata dall'associazione culturale Calautina di Milano, al primo posto Salve Romini, applauso fortissimo per i vincitori ma anche per tutti gli altri che hanno manifestato grande abilità, coraggio, eccetera eccetera, adesso facciamo un saluto anche alla pulia, grazie, un applauso per la giuria, adesso un applauso per i forti finali, per il giro di salito del pariglio che è sempre appreso a tutto la partenza, grazie, e questo vi invito a scena...